Sì, suppongo di... Sveglia! Le croccomagie e Topolino sono già in tavola Le crocchette di patate divertenti fuori Buonissimi da dentro! Da Pizzoli, lo specialista italiano Delle patate Costruisci per davvero Gioca per davvero Con LEGO Technic Chiedi ai tuoi genitori prima di andare online A LEGO City le strade sono chiuse Per la prima gara di superveicoli E ne vedremo delle belle! Scopri le novità di LEGO City Great Vehicles Divertimento assicurato! Ma è un formaggio fatto a rotella! Sì, sono unico! Wow! Ehi, guarda qui! Sono un formaggio da srotolare! E tu come lo mangi? Nuovo Babybel Mini Rolls Prendici gusto a farlo girare! Libera la tua creatività! That's your word! E' l'oceano a permettere la vita sul nostro pianeta Se riusciamo a convincere la gente a prendersene cura Possiamo contribuire a proteggere le specie che lo abitano Come sei dolce! Bravo! Non ti abbandoneremo mai! Mai! The Aquarium Una nuova serie in prima tv assoluta Dal 22 marzo ogni domenica Dalle 21.55 Su Discovery Channel Sì Ehi, era una battuta! Che cos'hai? È che non si trova la mia licenza Ho passato l'esame Però non risulta il mio nome nel sistema Sì Non fa